Entra in un negozio brandendo un'accetta, si avvicina la cassa, svuota il cassetto contenente i soldi e fugge. Tutta la scena però viene immortalata dal sistema di videosorveglianza e alla fine il presunto rapinatore viene arrestato. È accaduto ad Andrea dove la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 32enne Massimo Porro, già noto alle forze dell'ordine che dovrà rispondere di rapina aggravata. L'uomo era già stato sottoposto a misura analoga per un colpo commesso con modalità simili ai danni dello stesso esercizio commerciale. Dagli approfondimenti investigativi compiuti dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Andrea è emerso che il 32enne tra febbraio e marzo 2014, nel giro di poco più di un mese con il volto nascosto da un passamontagna, avrebbe messo a segno non una ma ben due rapine, utilizzando nel primo caso un'accetta e nel secondo uno strumento tipo piccozza. In entrambe le circostanze la violente e determinata azione dell'arrestato alla presenza anche di avventori, tra cui alcuni minori, le avrebbe permesso di impossessarsi oltre che del denaro anche di numerose schede telefoniche. La complessa attività di indagine ha consentito di individuare il presunto responsabile al quale sono stati sequestrati gli indumenti indossati durante le due rapine. Decisive si sono rivelate le videoriprese dell'impianto di sorveglianza di cui l'esercizio commerciale è dotato. L'uomo è stato condotto nel carcere di Trani.